ciao a tutti in questo video vi farò vedere l'unboxing di un paio di guanti da palestra che ho acquistato ieri e che sono arrivati questa mattina con amazon prime i guanti sono questi qui pagati 9,99 euro e taglia L succediamo con l'unboxing qui vado nel solito scatto 9,99 euro questo sono rimasto per visibili scritto L, l'arce non è la bibli quindi sembrano di ottima fattura vellutati che vi variano imbottiti qui palma una fascia classica di protezione dei polsi che può essere stretta a piacimento poi anche in altri punti del conto vi sono il tessuto elastico adesso provo a indossarli vediamo un po' si affittano ecco ecco non c'è nessun problema vediamo anche l'altro mi sembra mi sembra di ottima fattura sembra che qui sia un po' sporco non so se riuscite a vederlo c'è una piccola macchia bianca anche in altri punti ma va bene non vedo scuciture i guanti i guanti sono perfettamente i guanti indossati io ho detto magari vi provo in palestra e vedrò meglio come avranno l'imbottitura è piacevole anche provando a premere non sia la sensazione di contatto con l'oggetto direi che ci siamo non 5 stede per questi guanti anche per il prezzo che l'ho pagato vi ripeto è 9,99€ con Amazon Prime